Carolyn, scendiamo subito, andiamo subito alla seconda contesa che è quella tra... Gadeon Burkhardt, Caspar Caperoni. Ah! Caspar, non fare quella faccia. Dai, Gadeon, gimme, gimme your, gimme the translation. Vabbè, ma non è, è un addio strappacore, sembra che partano per la miniera, che ne so. L'importante è fare qualche cosa in pista, non ti preoccupare. Ho bisogno dell'auricolare, me lo dai? Can I have the idea? Ok, because you have to dance. Chi è il primo? Scende in pista per primo Gadeon Burkhardt, quindi per favore Caspar, mettiti qui. Lo spartito è il numero uno. Neanche la band sa esattamente di che si tratti, apre una busta chiusa, 50 secondi. 50 secondi per te, qualsiasi che vuoi fare. Just give the time, the rhythm. Tre, due, uno, vai! Parola non ha di sapore e l'idea, ma due occhi impadenti, non ha di sapore e l'idea, ma due occhi impadenti, non ha di sapore e l'idea, ma due occhi impadenti. E' un fuoco che mi scoppi a meno. Gadeon Burkhardt! Gadeon! What was it? What was the rhythm? Paso doble! Paso doble! Paso doble! Era paso doble, taca taca taca! Si dia un Gadeon! ... ... ... ... ... Grazie.